ci avevano fatto il funerale che avevano fatto ci avevano fatto il funerale ma noi abbiamo bussato e tutti impauriti hanno detto ma che sta succedendo fuori noi aprono tutto e vedono muoversi da quella trana che tutti avevano annunciato la morte del nostro milan e noi siamo usciti fuori abbiamo uscito gli attributi e abbiamo fatto una grandissima partita una grandissima partita una grandissima prova ieri abbiamo dimostrato che ancora non siamo morti il milan ieri è rinato una grande partita dei ragazzi qua lo dobbiamo dire e lo dobbiamo confermare il milan ha dato un grandissimo segnale vincendo una partita all'olimpico che prima prima che iniziasse non tutti davano ascoltato una partita del genere da parte del milan sì la roma che ha dato nel secondo tempo qualche difficoltà e quando nessuno lo aspettava avevano pure pareggiato ma il milan non non è stato né non è stato dominato dalla roma anche se qualche volta siamo andati in difficoltà soprattutto un po nel finale magari con romanzo di campo ok infatti non è stato un po in giallo ma il milan è stata una grande squadra spirito di gruppo una difesa che con tumori in campo non è stata perfetta per me è stata perfetta poi possiamo dire si potrebbe vincere pure come andato sono andate le cose magari con romagnoli in campo ok infatti io da qua in questo canale non sentirete buttare fango su il capitano su romagnoli che sta attraversando un momento no un momento no e chi può stare a tutti chi critica romagnoli se ne può uscire da questo canale sentivo ieri la mettere con ora non c'è romagnoli andata a buttare fango su tonnale ieri tonnale per me ha fatto una grandissima partita salvo un'occasione per me nell'occasione del gol si è fatto perdere per tutto però nel momento sono stati pure bravi loro a capire il momento del passaggio e e e provare quel tiro per quella partita si segnava soltanto per la roma però segnare per me soltanto c'è provano più tiri da fuori aria non l'hanno fatto in mila è stato in attacco e chiusi un pochino in difesa ma non chiusi perché ci stavano dominando perché hanno avuto una tattica di chiudere gli spazi in difesa che per cercare di non farli entrare nell'area di rigore e ripartire in mila ha fatto le ripartenze in mila ha fatto le ripartenze come un po non ero corretto mi sbaglio è nato per una ripartenze con di anterebis in mila si è chiuso e ripartito quello che dicevo nel terby mi sembra anche non era nel terby perché mi sembra che nel terby c'era calabria quando contro la spezia non c'era calabria in mila ha sofferto nelle nelle ripartenze perché comunque il terzino non pushava se noi con la spezia facciamo questa partita chiuderemo gli spazi mentre loro partivano chiuderemo gli spazi in difesa prenderanno la palla ripartivano e segneranno poi segnare con la spezia questa partita si deve fare con la spezia l'abbiamo fatto oggi e ci è andata bene abbiamo vinto il ricordo per me c'era quello di calabria era netto alcuni dicono che era pure quello del della roma ok si può restare benissimo ma ma l'andata vi ricordate all'andata vi ricordate che fallo li hanno fischiare in aria che non c'era la nessuno hanno stati sono stati zitti ora qua parlano perché non li hanno fischiare rigore alla roma in mila ha vinto è stato magari pure fortunato quelle occasioni ok 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 ma in mila ieri la partita per me l'ha meritata l'ha meritata di vincere l'ha meritata per me di vincere abbiamo ora abbiamo portato a casa uno sconto diretto importante per la generale sempre se non guardiamo in alto ho detto non guardiamo in alto guardiamo in basso se noi camminiamo andiamo avanti guardando in alto non ci accorgiamo che in basso dove sono i piedi c'è uno scalino c'è una piedra qualcosa che ti fa inciampare noi guardiamo in guardiamo cosa c'è in basso e guardando in basso ci viene tutto più semplice a fare quei punti che ci riportano in sempre lì perché questo mila quest'anno ce lo può far sognare questo quarto posto e se non un pochino di più in alto devo fare complimenti a questo mila grandi ragazzi ora pedaliamo pedaliamo mercoledì milan udinese lo sottovalutiamo l'udinese non lo dobbiamo sottovalutare facciamo la parte che abbiamo fatto ieri vice aperto testa alta pedaliamo e se facciamo questo noi mercoledì possiamo vincere e dobbiamo vincere un saluto da vostro milanista faccio vi invito a mettere un like condividete commentate questo video iscrivetevi al mio canale youtube cliccate la campanellina per essere aggiornati all'uscita dei video se non arriva la notifica andare sulle page social facebook e instagram milanista paccio tiktok milanista paccio official twitch milanista paccio e soprattutto un grandissimo forza milan e facciamo questo film video così volevano volevano vincere volevano vincere e l'anno preso nel commentare sotto un saluto da vostro milanista paccio